Ciao rivoluzionario, eccoci di nuovo qua, oggi parliamo di rock'n'roll, della nascita del rock'n'roll e del padre, dell'inventore di questo genere fantastico di cui tutti siamo debitori. Ovviamente si parla di Chuck Berry, è difficile fare un video su un mito del genere, uno perché ci sono tantissime informazioni, tutti lo conosciamo, tutti abbiamo ascoltato le sue canzoni, quindi sarà difficile dare un contributo, dare qualcosa in più come contenuto rispetto alla storia di questo uomo. Ciò non di meno, mi sentivo di doverlo fare proprio perché è uno dei miei autori preferiti, io sono un grande amante del rock'n'roll dei primi tempi e quindi insomma volevo fare questo breve episodio. Charles Edward Anderson Berry, detto Chuck, nasce nel 1929 a St. Louis nel Missouri. è il quarto genito di una famiglia del ceto medio, il padre è un imprenditore nonché diacono di una chiesa battista e come lui dichiarò dopo non nebbero mai enormi problemi economici. Questo gli permise fin dalla giovane età di dedicarsi allo studio della chitarra e infatti già alla high school si esibì per la prima volta nel 1941 dimostrando appunto una grande attitudine e un discreto successo. Questa condizione economica potremmo dire favorevole rispetto a molti neri dell'epoca però non gli impedì di fare una di quelle grandi minchiate che fanno i giovani, a volte appunto a causa delle famose cattive compagnie. Infatti lui e alcuni suoi amici decisero di rapinare dei negozi a Kansas City e di rubare una macchina. Chiaramente vennero presi e lui praticamente passò tre anni della sua giovinezza in riformatorio. Questa esperienza probabilmente fu molto importante per lui in riformatorio tra l'altro riuscì a mettere insieme un quartetto vocale e capì che la musica era la sua strada sostanzialmente. Uscito di prigione, deciso di mettere la testa a posto, si sposò con la sua fidanzata, due anni dopo ebbe anche una figlia. Nel frattempo fece diversi lavori tra cui l'operaio ma anche l'estetista fece anche un corso da estetista e cominciò a suonare, entrò nella band di un grande pianista di allora che era Johnny Johnson. Si esibiva in diversi locali e in modo stabile al Cosmopolitan. Sembra che proprio qui arrivò la sua grande occasione, nel senso che incontrando un grandissimo nome del blues che era Muddy Waters, lo vide suonare, venne colpito dal suo talento e gli consigliò di fare un demo e di portarlo al suo produttore, cioè alla sua casa discografica che era la Chess Records per appunto sottoporlo all'attenzione di Leonard Chess. Detto fatto si fece prestare un registratore, registrò due pezzi, uno più propriamente R&B dove lui cercava di imitare i suoi miti musicali e l'altro uno scherzo secondo lui che era il rifacimento di una canzone country chiamata Ida Reed, scritta negli anni 40 da Bob Willis, appunto un grande autore della musica country. Il fatto che un nero si interessasse alla musica country fece da subito scalpore, infatti quando lui suonava negli ambienti neri questa cosa non venne vista neanche in modo proprio così favorevole. Al contrario Leonard Chess tra i due brani capì che la hit, quella che poteva veramente sfondare le classifiche, fu proprio questa canzone ispirata al country bianco americano però suonata da un nero, ecco questo contrasto lo colpì molto e decise di arrangiare il pezzo e di farlo uscire come il singolo. Era il 1955 e esce Maybelline, questa canzone come abbiamo detto inizialmente si chiamava Ida May è una canzone che parla di sostanzialmente di una gara tra due automobili una guidata appunto dallo stesso Chuck, una Ford scassata e una Cadillac Deville guidata da questa Maybelline che è idealmente appunto questa ragazza. È bellissima la scrittura di questo pezzo perché è proprio scritto come se fosse una sequenza cinematografica. Tutto il testo racconta semplicemente del rincorrersi di queste due macchine e quindi praticamente che sono testa a testa poi a un certo punto la Ford V8 di Chuck non vuole più sapere perché si surriscalda ma poi piove e quindi raffreddandosi il motore riparte lui riesce finalmente a riprendere in cima alla collina questa Maybelline. Il ritornello tra il racconto diciamo dice semplicemente Maybelline ma perché non puoi essere sincera? E va detta una cosa, appunto il nome di questa canzone quindi Maybelline sembra essere stato preso o comunque ispirato da una famosa marca di brillantina di allora o comunque di prodotti cosmetici. Abbiamo detto prima che appunto faceva, aveva fatto anche l'estetista o ha studiato come estetista e deve essere stato secondo me colpito dal contrasto tra queste immagini patinate che volevano esprimere appunto la famiglia perfetta americana con la realtà sociale veramente diversa che lui viveva. Quindi immaginandomi visivamente questa canzone, queste due macchine che si rincorrono mi viene in mente Chuck che affiancato alla macchina dice a questa Maybelline Maybelline ma perché non puoi essere sincera? In questa visione mi viene da pensare che Maybelline oltre ad essere una donna potesse essere proprio la rappresentazione della società bianca assolutamente appunto non sincera e assolutamente ipocrita. Visto in questo senso è bello pensare che appunto lui riuscì a fare successo soprattutto tra gli adolescenti bianchi americani con un pezzo che poteva essere anche una sottile critica a questa società. Altro elemento infatti fu proprio la differenza di macchine, no? Cioè c'era un punto una Ford scassata e una Cap Deville, una Cadillac e quindi anche questo, questo elemento sociale politico mascherato però in una canzone divertente con un ritmo assolutamente nuovo, innovativo ed esplosivo. è ovvio quindi che questa canzone fece un successo enorme arrivò al quinto nella classifica generale di Billboard e prima nella musica R&B quindi sull'onda di questo successo Cess e il buon Chuck e anche Johnny Jones appunto che collaborò con lui un po' per tutta la vita e sfornarono altri singoli di successo quindi il periodo che va appunto dal 55 al 59 fu il periodo più ricco di successi e sono quelli che maggiormente vengono tutt'oggi riprodotti e ricordati tra i tanti appunto mi viene in mente School Day, Roll Over Beethoven, la famosissima Gianni B. Goode Sweet Little Sixteen e molte altre che dopo magari vi metto la discografia in descrizione non ce n'è bisogno, la trovate ovunque ma comunque per dire questo fu davvero il periodo d'oro purtroppo venne interrotto da un fatto giudiziario da un fatto giudiziario grave un altro fatto giudiziario grave cioè venne accusato di aver fatto sesso, di aver rapporti sessuali con una 14enne immaginatevi appunto l'America degli anni 50 della fine degli anni 50 puritana com'era come può aver preso appunto questa accusa mossa ad un nero che era appunto l'idolo invece dei ragazzi bianchi tanto è vero che lui stesso disse che questa accusa era strumentale era più che altro razzista e non stentiamo a crederlo anche se sappiamo che il buon Chuck ebbe sempre diciamo una libido abbastanza alta tanto è vero che anni dopo passò altri guai con la giustizia accusato di aver installato una telecamera nel bagno delle donne accusa che si rivelò fondata infatti dopo una perquisizione vennero trovato queste registrazioni compromettenti e tra l'altro trovarono anche della marijuana ma ecco in questo caso lui riuscì a cavarsela con un risarcimento privato quindi sborsò un po' di dollari a queste donne e riuscì a chiuderla così nonostante il duro colpo alla reputazione che questo fatto giudiziario provocò abbiamo detto che grazie appunto al riutilizzo dei più famosi gruppi rock subito successivi cioè Beatles e Rolling Stones ma ce ne sono tanti altri adesso andiamo per sommi capi e per fortuna appunto riuscì a rimettersi in pista a riguadagnare credito del music business e negli anni sfornò una serie di successi incredibili quelli più clamorosi appunto furono per esempio My Dingling che fu tra l'altro l'unica canzone che arrivò prima in classifica e gli fruttò anche un concerto alla Casa Bianca durante la presidenza di Jimmy Carter i Rolling Stones esordirono proprio con una canzone che fu come on e ripresano ripresano vari successi forse la più famosa fu Carol ma appunto fecero cover di Lady Rock The Little Queenie forse di qualche altro di cui non ricordo ma giusto per dare qualche informazione mi viene in mente appunto la versione di Roll Over Beethoven dei Beatles e la citazione di You Can Catch Me in Come Together ma veramente ci sarebbero tantissime magari vi metto qualche link in descrizione per approfondire questo aspetto ma la cosa che mi interessava soprattutto trasmettere è proprio il fatto che questo giovane ragazzo con la sua voglia di riscatto e con una mentalità molto pragmatica riuscì davvero a creare una coscienza del rock'n'roll che tutt'oggi rimane viva vi leggo un piccolo pezzo che scrisse lui non so se lo scrisse o comunque fu la traduzione di un'intervista però lo stesso Chuck Berry dice racconta della sua musica in questi termini ve la leggo perché è breve ma è molto indicativa del personaggio non credo di essere speciale niente a che vedere con le espressioni di Nat King Cole la poesia di Maya Angelou o l'eleganza di Duke Ellington volevo suonare il blues ma non era abbastanza blu non ero come Muddy Waters e altra gente che aveva sofferto molto a casa mia non mancavano il cibo ed eravamo più fortunati di molte altre famiglie per questo motivo mi sono concentrato sull'allegria, sul divertimento e sulle novità ho scritto canzoni sulle macchine perché una persona su due ne possedeva una ho scritto canzoni d'amore perché tutti vogliono l'amore ho scritto canzoni che potessero comprare i bianchi perché volevo fare i soldi era quello il mio scopo guardare il mio conto in banca e vedere milioni di dollari questa idea, questa dichiarazione appunto mi ha colpito molto perché appunto contrasta un po' con quell'idea personale che ho, idealistica dell'arte per cui appunto l'arte viene sempre fatta per uno scopo divulgativo, informativo, culturale come vediamo qua la spinta maggiore della sua musica fu proprio questo desiderio di rivalsa deve aver sofferto molto appunto negli anni della giovinezza soprattutto della discriminazione razziale anche se appunto come vi han detto non era senz'altro uno di quelli che se la passava peggio in questo ambito riuscì senz'altro nel suo intento a riscattarsi sia come singola persona ma senz'altro fu anche il mito per tantissimi neri che non avrebbero mai pensato ad un successo tale detto questo ragazzi il video come sempre si è allungato troppo quindi taglio qui ma se vi interessa qualcosa in particolare di quello che ho detto ditemelo nei commenti sia su Chuck Berry ma anche su altri autori dell'inistro del rock'n'roll ma anche successivi per me è sempre importante avere un feedback perché mi dà modo di crescere soprattutto capire quali sono i vostri interessi e i vostri gusti e quindi poter creare contenuti sempre migliori pollicione scriviti solite raccomandazioni e ci vediamo mercoledì prossimo sempre su Rivoluzione di Parole ciao ragazzi